E basta, non ce la faccio più, più, mio marito è un disgraziato, tutti i giorni esce e mi lascia qui da sola. Ma quando rientra, 5 minuti mi aveva detto, vado a comprare le sigarette, sono 8 ore, 8 ore, ma mi sente quando rientra, mi sente lui, gli faccio vedere e passa così sempre da sola, sempre. Non ce la faccio più. Eccolo, eccolo. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Bambina, forse, vieni qua. Bambina, vieni qua. Apriamene.. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Ma ma tu sei a voi che soci vieni. Bambina sei secco, sito. Essi da questo corpo, satana. guarda lei guarda lei guarda lei non mi toccare non mi tolmai fermo ferma dimmi ma dove sei stato? come dove sono stato? fermo sono andata a comprare sigarette ah e dove? qua sotto fai spaventare vai spaventare Qua sotto sei, quasi 8 ore e qua sotto, eh però il tabacca qua sotto c'è la macchinetta rotta, quindi sono arrivato uno lontanissimo, lontano, lontano dove? A Malpenza, a Malpenza, un'ora andate ritorno e le altre 7 ore? Quando sono arrivato a Malpenza, lo sai chi ti ha incontrato? Lo sai chi ti ha incontrato? I miei due amici dell'America che erano meglio da 10 anni, Pepito e con l'altro lato E dove siete stati 7 ore? Allora, visto proprio l'occasione che erano 10 anni che non ci vedevamo ha detto andiamo a mangiare al ristorante Pure un ristorante, che ristorante? Il ristorante sta parlando di Cina Come si chiama? Il ristorante sta avvicinando a Malpenza, non mi ricordo ma dalla tonda sul mare A Malpenza, a Malpenza, a Malpenza, la cosa è che ho fatto anche incassi Sentiamo un po', che avete mangiato? Ma ora non mi serve il caso di sapere tutto il menù? E io lo voglio sapere! Ma che si senta una fregata del manù? Lo voglio sapere, lo posso sapere? Allora, abbiamo preso il menù proprio lunghissimo, perciò ho preso il testo Siamo qua, sentiamo! Ho preso prima di tutto l'antipasto, l'affettato misto con le olive Poi il primo ho preso i cannelloni ripieni Il secondo abbiamo preso la porchetta con contorno di finocchi Poi abbiamo preso due pere e il dessert abbiamo preso la Sant'Onore E' proprio la messa lunga E il caffè pure? No, il caffè non l'ho detto Ma 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 l'applauso alla moglie Eccolo qua, eccolo qua, è proprio così E' poveretto lei Chi è? Ma guarda che non può stare la cosa Che sta andando? Ma sai chi è? La mia madre E' assunzione E' assunzione Che più di nessuno Chepo anche lui E' che dice Che più di nessuno Chepo anche lui An Attra Questo gli theory Eh Si Chi è che Ti des e pensare che quando l'ho sposata erano tale cuore ciao ciao io tardissimo io e lui sono 10 minuti che non ci vediamo tempo tempo sostituzione cambio però no io non lo devo metterlo no, io non lo devo metterlo oh ma no Cristo e quindi tabbarcaio tabbarcaio ah 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 e tempo e tempo e tempo e tempo e tempo e tempo L'altra pancaglia, l'altra pancaglia dopo ci siamo andati di lui e a un certo punto uno si è buttato dal balcone, si è messo lì e vomitava, no, no, rullo, rullo di da voi, nervoso, no, le uscite sono di qua e di là, le uscite sono di qua, all'aeroporto! E' l'aeroporto, è l'aeroporto, mamma mia a un certo punto un cagotto, corre al cesso di qua, corre al cesso di là, no, 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 pensa, pensa, tu pensa che il mare, pensa che il mare, pensa che il mare, pensa, che il mare, pensa, pensa, è bello, sei contento? E' l'aeroporto di martea! E' l'aeroporto di Strangerdolo a farlo! No, e dove siamo stati? Aaino è un po' calone c'è il gift queen, aallo ragazzo! Tutti, quanto gli Arami gli massavano anche le bombe dentro le scacule no, no, C'èva il Gilles, vabbè ma sono due Sono quattro A mangiare, a mangiare Il mare, una rotonda sul mare Il mare, una rotonda sul mare Dove un chiappa chiappa qua c'è la sostanza Il mare, una rotonda sul mare Ma è che avete mangiato? È che abbiamo mangiato A un certo punto non si è affettato tutto il dito Il sangue che so No, 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 no E' uno prima E' uno prima E' un altro Antipasto! L'antipasto! 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 L'affettato è misto! L'affettato è misto! E poi? Mamma mia che abbiamo fatto? C'è il pranzo di Natale Ma a un certo punto Quello d'è Gli sono cascate le pomme Per poter schiacciare E dice Mamma mia che è fatica La raccolte La prese su Prima la schiacciata E poi la mangiata Neolite! 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 Antipasto! Misto! Con l'antipasto! Non lo so E' come tu E' il dopo l'antipasto E' meglio di trucchi Diggi, dimmi E' il dopo l'antipasto Mi tiene l'ultimo E' uno Uno è arrivato primo? è arrivato primo? primo! il primo? il primo! ok, che primo? si no, l'ha mangiato un primo e la signora ha detto mamma mia di roba che ti è era un esempio superato, era una bomba atopica i cannelloni! i cannelloni! i cannelloni! con il tappo! con il tappo c'è anche questi piedi dentro una puzza di pere dentro! ripieni! i cannelloni! ripieni! ripieni! i cannelloni! dopo i cannelloni! vittoria! tu vanno al bagno! vanno io vanno al bagno! no! scappo! no! il secondo! il secondo! facile con la prima! facile! facile! ah beh questa è facile! non sai perché succede una maiala! no! e piccola! una maialina! no! con la tre in bocca! una porche! una porca! una porchetta! 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 porti i diti di contorno e comunque entra la pomerando e ce l'ho detto some people ma mamma mia si fa le pere io ho detto si fa le pere ma non è il pere scusa non è il pere non è il pere basta non è il pere ma non è il pere bisogna farli vedere le pere e dopo le pere e stiamo stati a cavolar a mangiare ma che caldo no 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 siamo andati a fare un'espulsione forza matur un'espulsione deserto 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 desert desert deserto 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 un prete un prete un mescolo un arcivescolo un cardinale una madonna un santo un santo stava in alto molto più in alto molto più in alto un principe un molto di più una regina il re 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 santo santo no re santo no re santo no santo no no santo no santo no e il caffè l'avete preso il caffè? sì no eh no eh sì va 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 sono messo a te i mani marci che da dieci anni non ti ne ho visto proprio stasera come sono stato con Giovanna Cosciolunga che erano tre mesi che stavo indietro e mia moglie della Cosci mia moglie non ne sapeva niente loro stasera e poi non ho capito perché devi chiedere a tua moglie che ci sono mangiati tutto sto popolo di roba non potevi fare non potevi fare così una pizza un urutto e una birra lo capivo subito no eh no dovevo perdere tempo dovevo perdere come facevo e che ne so come facevo e ho detto che stavamo io te e Pepito eh non è male che sono venuto io perché se veniva quel rimbambito di Pepito sai che casino che convivano ecco lui non stavano venuto in italiano mamma mia ci arrivasse ecco ecco hanno bussato la moglie hanno bussato è la sua e chi sarà è la sua mamma mia c'ha arrivato un macchino è la sua c'ha arrivato un macchino c'ha arrivato un macchino c'è arrivato un macchino c'è arrivato un macchino